Mi ha raggiunto in studio Francesco Milza, presidente di Conf Cooperative Emilia Romagna. Buongiorno. Parliamo del settore delle cooperative. Sono stati presentati i dati 2017. Cosa ci dicono e quali sono i settori che sono andati meglio? Certamente dati e numeri positivi. Abbiamo generato nel corso del 2017 3.200 posti di lavoro in più, 4% più di fatturato nel complesso delle nostre cooperative facendo parte del sistema di Conf Cooperative. Diciamo che il TRAI non l'ha fatto il settore agroalimentare soprattutto per quanto riguarda il termine dei fatturati e molto positivo sugli occupati sia le cooperative dell'area del welfare sia delle cooperative dell'area dei servizi. Un trend quindi che si conferma positivo ma c'è invece una nota negativa, le false cooperative. Sì, un tallone d'Achille del nostro sistema, non tanto perché appartengono ai movimenti dell'Alleanza ma certamente un problema di reputazionale per tutto il movimento cooperativo che chiediamo fortemente di combattere. Come? Lo chiediamo attraverso l'applicazione e l'adozione della legge nazionale di proposta popolare che abbiamo presentato come alleanza e che chiederemo e chiediamo alla politica che venga prontamente adottata. Lo chiediamo attraverso l'attivazione forte degli osservatori provinciali sulla logistica e il facchinaggio dove sono presenti tutti gli organismi di controllo e lo chiediamo soprattutto attraverso un'attenzione da parte della committenza che a volte ignara, a volte un po' consapevole, utilizza a volte questi strumenti, queste false cooperative piuttosto che altre forme di impresa per creare una forma di dumping sociale che per noi, sia in termini per i lavoratori che per i nostri soci, risulta inaccettabile. Allora noi abbiamo parlato a lungo, in particolare di un caso mediatico, il caso della Castelfrigo. Responsabili sono sì le cooperative false ma anche la committenza? Esatto, certamente il tema della committenza è una parte importante in questa scelta. Sappiamo benissimo che la terziarizzazione da parte delle imprese è certamente un diritto e un modello importante, la qualità però è altrettanto importante. Quindi la politica come vi può aiutare? La politica ci può aiutare, come dicevamo, attraverso l'adozione di questa legge che tende a mettere in difficoltà la falsa cooperazione e soprattutto monitorando e attenzionando il territorio rispetto a questi fenomeni che rischiano soprattutto in alcuni ambiti, penso alla logistica, su alcune altre aree, di mettere fortemente in difficoltà la buona e sana cooperazione. Benissimo, noi ringraziamo e salutiamo il nostro ospite, Francesco Milza, presidente di Comf Cooperativa Emilia Romagna.